Nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile, il Comune di Mola di Bari ha organizzato il workshop sulla bioeconomia, esperienze concrete per l'occupazione per le imprese sostenibili. Il Comune di Mola di Bari è stato il primo a dotarsi di un assessorato alla bioeconomia allo scopo di favorire la transizione verso un modello economico sostenibile, una transizione non più rinviabile in virtù dei cambiamenti climatici in atto che evidenziano la crisi del modello di economia lineare. Anche la Regione Puglia è impegnata nel promuovere il cambiamento grazie al disegno di legge regionale sulla bioeconomia, prima firmataria la consigliera regionale Lucia Parchitelli. Una bellissima mattinata di confronto, quello che abbiamo appena concluso, sono davvero soddisfatta di aver potuto raccontare a tutti quello che è stato il percorso della legge sulla bioeconomia e quelli che sono i lavori oggi in corso presso il Consiglio regionale della Puglia. La transizione verso l'economia circolare, la bioeconomia ormai non è più rimandabile e ognuno di noi deve fare la propria parte, incluso la Regione Puglia. Noi siamo partiti dal lavoro di partecipazione che è stato fatto nella precedente legislatura. Ora però dobbiamo coinvolgere tutti, dobbiamo coinvolgere tutti i gruppi politici, tutti gli stakeholder, tutti gli interessati e tutti i cittadini in un lavoro che deve essere di grandissima condivisione perché dobbiamo fare tutti insieme una vera e propria rivoluzione culturale. Una parte molto importante di questa proposta di legge che ho sottolineato questa mattina è la costituzione di un osservatorio. Un osservatorio indipendente che ci sarà presso il Consiglio regionale, che avrà il compito di monitorare l'applicazione della legge e di riferire all'aggiunta del Consiglio. Quindi una legge dinamica che si andrà ad attuare man mano che noi andremo avanti nella nostra programmazione. L'assessorato alle politiche ambientali, pesca, agricoltura e bioeconomia del Comune di Mola di Bari organizza questa giornata un primo comune in Italia con una delega alla bioeconomia e in qualche maniera va ad interpretare quelle che sono le strategie europee sulla bioeconomia circolare. In questa giornata una serie di approfondimenti e spunti concreti proprio sulla bioeconomia circolare. Grandi sfide ci aspettano in un'epoca in cui i cambiamenti climatici sono alle porte e proprio per questo questa giornata di oggi sulla bioeconomia opportunità concrete vuole approfondire sul territorio una serie di attività che vanno nella direzione proprio di nuovi modelli di produzione e consumo nell'ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2022.